Gente, bella raga e benvenuti in questo nuovo video di Halston Cosa succede oggi? Praticamente io avevo 1800 ban di oro Solo che il risultato di 18, ben dico 18 pacchetti sudati in un mese sono stati 60 di dust Perché 4, adesso vi faccio vedere 3 Cosa vuoi tu? 3 E altro, altre cose belle, belle Poi se andiamo sulle generiche mi è capitato di trovare un certo amico qua Dove? Dove sei? Maledetto Dove sei? So che sei qui Sei esattamente qui Ne ho fottutamente 7 7 Che cazzo? Cioè, ho 7 cavalieri a molla in 18 pacchetti vuol dire che non ho trovato 1 ogni 2 pacchetti Più o meno 1 ogni 2 pacchetti Cioè, è mai possibile Mi faccio 25 di lasta solo con cavalieri a molla Maledirezione Vabbè, vabbè Comunque Per il resto, io adesso direi, visto che ho registrato spacchettamento ma era una cacca Le uniche ho trovato su tutte rare 18 rare 18 rare Tranne 2 epiche Che sono dello stregone Che è una classe che non uso, sinceramente Non mi piace Che sono patto scuro e maldestriero Ora, non so se... Non so se shardarle Perché, allora, nel mazzo che ho visto da Kripparian Mi mancano 4 carte Che sono Una Starfall Che è una pioggia di stelle Poi mi manca un Custody E sono 200 Poi mi manca... Cavolo c'è qua che mi manca Ah sì, ho un BGH Che è la epica Eh no, non ce la faccio a farmela Vabbè, comunque Direi che vi faccio vedere il mazzo Shokadin Che è un mazzo che ho visto essenzialmente Allora, già giocato l'ho visto dal Duca Però Già mi piaceva prima che lo mettesse È un mazzo che è molto, molto veloce, direi E... Boh, ci andiamo a fare qualche partito in classificata Visto che io volevo portarvi lo spacchettamento Solo che ho scattato Nugaz E... Boh, vabbè Akumin Riner È proprio lui L'abbiamo beccato Star del mondo Direi di buttare essenzialmente tutto Non serve Sì, sì Grazie Ecco Alla battaglia Alla battaglia Alla battaglia Quattro Oh no, per caso questo Oh no, lo fò un po' pure Sai, non sono andato giusto Boom E una L'abbiamo Vediamo quanto è rispettato Cazzo, non sta oreccando Vabbè Dobbiamo purificare il pozzo solare Che ignorante Che ignorante Come direbbe Come si dice Sai Nel gergo C'è il mio scudo Asperarci Eeeh Per la giustizia Ok, prossimo turno Vittoria Ce l'ho la vittoria? Mmm Sì Dai La Starfall quanto costa? Non mi ricordo 5 Oh ya Ah ya L'ho studiutizzato Che paura Super paura Ammigo è un'altra Ammigo è un'altra Ammigo è un'altra Ammigo è un'altra Perfetto Grazie Scaliamo un po' Ragazzi sto scalando E perché Ve lo dico nella prossima partita Chi è che Perché ti sei alzato Volume Perché ti sei alzato Non volevo alzarti Stavo dicendo Ho cominciato a scalare Per un semplice motivo Ovvero Che La Blizzard Nel Uno degli ultimi Azzornamenti Ha messo Una sorta di baule Possiamo chiamarlo così Che viene aperto Alla fine del mese Nella fine quindi Della classificata Della stagione classificata E ci sono dentro dei premi Ovviamente Più premi Cioè più scali Più i premi sono belli Diciamo così E Quindi Sono interessato A scalare Proprio Per quello Dai Ma non mi ha dato il gufo Ma cribbio Ma non ci posso credere Ha registrato un turno Proprio perché ha buttato giù Sputafango Praticamente Un altro Dai Dammelo sto silenzio Per favore Cioè non ci credo Che non mi dai il silenzio Ho capito che c'ho questi Però Dammelo sto silenzio Che cavolo No Non me lo vuole dare Testardo Vabbè Che faccio allora Glielo butto giù Sì ho vinto Ho vinto Sì Perché faccio 4-4 Butta giù Poi con questo butto giù Provocazione Bella giocata Bella giocata Si arrende Anche Vediamo il prossimo Prossimo Allora facciamo Meccano mazza Via 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 Tutto Ho molta paura Di quello che potrebbe succedere Neanche una cosa Turno 1 Ho 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 Po fare Poldrek Mica l'avevo già sfilata Ma aveva fatto il culo O era uno Simile Bella giocata Spira letale Esatto Grazie Ma cribio Attenzione Mi sono scombiati di posto Così a casa Bella giocata Cosa c'hai? Un'altra spira? Risucchio La vedo cattiva Bruttissima Proprio la vedo Bruttissimissima Bella giocata Cosa c'hai in mano? Voglio Voglio proprio sapere Che cavolo c'hai in mano Secondo me ci avrà Togli 2 E espira Bella giocata Perfetto Cosa c'hai? Che c'hai? Quando infliggono danni Lì c'hai Sto potuto prendermi inflitti Più 3 Più 3 È un demone Ah mi hai dato un cristallo? Me lo hai dato davvero? Continua a dirmi Bella giocata questo Cioè Ha impugno Ha impugno tutto Ha impugno tutto lui Ha 7 carte in mano Quindi al prossimo turno Pesco Cosa c'hai? Quale infligge un danno a tutti? Lo so io che ce l'hai Se c'hai un servitore Ah Non male E torna 23 Il silenzio? Manco poco Cazzo Dammi sto silenzio Per favore Non stiamo qua a scherzare Dai Ma tu stai fottutamente scherzando Buttaglielo giù Dai Oh grazie Eh si Ti rigeneridevi Devo fartelo fare Cioè Cosa fa? Ah Per un attimo Ho visto che si arrendeva Provocazione Dammi un silenzio Ti ho detto Dammi un silenzio Dammelo Golem Dammi sto silenzio Dai Dammelo Dammi lo silenzio No Non ti ho chiesto Neanche questo Ti ho chiesto Neanche Argus Neanche questo Ma tu devi morire Nelle fiamme dell'inferno No No che idiota Ho sbagliato Ups Bella giocata Grazie Di nuovo Sto registrando Si Distrugge Oh che bello Ho 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 Vabbè meno male Non ho giocato la donata Boom No Aspetta Due E tre E attacca diretta E vaffan guai Thank you very much Quando ti faccio? Ti faccio tre Quattro Cinque Sei E sei Quattardici E devi tirarmi giù Un'altra bomba Debi tirarmi giù Un'altra bomba Ah io Buttami giù Una bomba Buttami giù Una bomba Anche la prossima Non mi sa Che ho vinto Perché E c'è Madonna No Mi dispiace What the fuck Is this What the fuck Fai io Che culo Allora Decidiamo Tre Quattro Frega cazzi Vabbè ti sei parato il culo per un turno Non mi dispiace Cioè Boh Dai ce la posso fare Ce la posso fare Il prossimo turno Ho vinto Contro lui Contro Valgani Dai 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 Bella giocata Bella giocata Arrenditi Arrenditi Ti prego Che cazzo Che minchia Silenzio ho vinto Bella giocata Bedda giocata Bedda giocata Bedda 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 giocata Bella giocata Bella 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 giocata Dammi il silenzio ti benedico Manco poca cazza Possevo carlo Manco poca cazza E va a vincere Contro il maricoso dorato Ci godo Boom Prossimo Mi era crashato fraps Che cosa è successo Allora No Passo Non mi sa capire Contro Elfie Elfie l'elfo Proprio lui Vediamo come finisce Questa partita L'opzione migliore E fare Questo Si ok ok Non ho perso Non ho perso Perfetto Questo 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 E poi Si Questo Deve venirgli un ordine di morte No neanche 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 Perché 5 danni Non me li fa Non me li può fare Non penso che Nessuna carta della Ma Gesù Ma Gesù Ma Gesù Ma Gesù Ma Gesù Ma non è possibile Top deck di Golem Ragazzi Ci fermiamo Al rank 18 Spero che il video Vi sia piaciuto Peccato Volevo portarvi Lo spacchettamento Ma Peccato Non ho trovato nulla Vabbè 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 Vabbè